Siamo nella mix zona del Libero Liberati per commentare la partita Ternana Perugia, il 45esimo derby dell'Umbria giocato qui al Libero Liberati di Terni. La Ternana torna a casa con un punto, una partita giocata bene nella prima frazione di gara, poi nella ripresa un Perugia che è salito alla ribalta e ha pareggiato i conti proprio nei minuti finali. Siamo con Francesco Petrelli per commentare questo derby che ci lascia un po' la mare in bocca a Francesco perché ci stavamo già pregustando questa vittoria. Poi il rigore di Carmine e il punto ciascuno per le due formazioni. Ormai ci credevamo, erano dieci anni che non mincevamo il derby, quindi davamo per scontato che la partita si concludesse così. Diciamo, almeno a mio parere, forse abbiamo iniziato a coprire troppo presto. Più di una volta abbiamo detto che Poghesci gioca dal rimbaggio fino all'ultimo minuto. Forse oggi togliere subito Montalto a 20 minuti della fine mi ha sembrato un po' rischioso. Il Perugia ha preso coraggio, giocavamo anche 11 contro 10. All'ultima azione, anche se il rigore onestamente non sappiamo se c'era o no, si parla di gamba desa, di trattenuta. Comunque il Perugia ha pareggiato. I colleghi di Perugia ovviamente dicono non vincete mai. Quindi hanno ragione, hanno ragione. Anche oggi che era una partita da vincere, l'avevamo vinta, siamo stati capaci di non portarla a casa. Dispiace enormemente, perché comunque ci credevamo tutti. Forse era un'occasione più unica che rara, con un Perugia che non era trascendentale. Anche Breda ha sbagliato più cose dall'inizio, mettendo un delprete che era spesato in campo. E siamo riusciti a non vincere l'ennesimo derby. E' veramente, ripetiamo le solite frasi degli ultimi tempi, un brodino, ma qui non parliamo più di brodino. Sesto pareggio consecutivo poi. La Dernana non vince, non riesce a portare a casa la vittoria. Nel primo tempo ci è piaciuta, c'era quella carica agonistica. C'è stato un grande defendi, valiant, Paolucci è stato strepitoso. Nel secondo tempo siamo calati vistosamente. E ripeto, secondo me ci sta anche qualche errore di mister Poghesci. Quindi però dicevi che una Dernana da un punto di vista caratteriale ha messo dentro la grinta, ha messo dentro la cattiveria. Però forse bisognava mantenere questa cattiveria anche negli ultimi minuti. Ma io credo di sì. Ripeto, l'uscita di Montalto onestamente non l'ho capita proprio. Perché comunque abbiamo cambiato l'assetto in campo, siamo passati su un 4-4-1-1. E di attaccante vero non c'era in campo. La Dernana ha faticato tantissimo. Vitiello non mi sembrava in ottima forma, già lo sapevamo. E quel cambio onestamente secondo me è stato rischioso. Forse bisognava anche provare nel finale a far uscire o Carretta o Tremolata. E mettere Finotto, che poteva essere una spina nel fianco. Comunque partite del genere, 11 contro 10, non le puoi pareggiare così. Uno diventa anche ripetitivo. Però ecco, per il derby onestamente tutti ci aspettavamo la grossa prestazione che c'è stata. È stata tanto caricata la partita con serenità, come ha dichiarato il DS Evangelisti e come ha dichiarato Marino Defendi. C'erano tutti i crismi, c'era proprio l'atmosfera giusta per portare a casa la vittoria. La mare in bocca è tanto e ripeto, i perugini fanno bene, i colleghi di Perugia, a dire non vincete mai. Grazie a Francesco. Grazie a Francesco. Proseguiamo i commenti in mix zone del Libero Liberati dopo il derby Ternana-Perugia 1-1. Il 45esimo derby dell'Umbria termina con un pareggio. La Ternana ci aveva creduto fino alla fine, poi è arrivato il pari di Di Carmine sul calcio di rigore. Due tempi diversi, quelli visti qui allo stadio del Centauro Ternano. Bene la Ternana nel primo, un po' male nel secondo. È venuta fuori il Perugia che poi negli ultimi minuti di recupero ha pareggiato. Gigi, che dire su questo derby? Ci avevi creduto anche tu? Stavo per dire che non già hanno creduto solo i giocatori, ci abbiamo creduto anche noi, ci siamo anche arrabbiati, siamo rimasti delusi. Siamo stati anche sfortunati adesso, al di là di tutto, poi adesso magari esaminiamo con calma. Abbiamo giocato alla grande nel primo tempo fino ai primi dieci minuti della ripresa. Poi, inspiegabilmente, adesso ci rifletteremo, vedremo un attimo, forse qualche sostituzione, non è stata felice, ma l'analisi sarà più complessa nei prossimi giorni. Però la Ternana, per vari motivi, si è inspiegabilmente tirata indietro. A quel punto il Perugia si è, per forza, tirato avanti, ha cominciato a buttare queste palle avanti con Gerry che è di testa. Insomma, mettendoci il fisico è diventato pericoloso, la partita era pressoché finita, però tanto più c'era stata anche l'espulsione di volta, erano rimasti in dieci, ma hanno continuato ad attaccare. Sinceramente non ci siamo neanche accorti che fossero rimasti in dieci. Anche Blitzeri ha fatto una bella parata, su quell'occasione. Alla fine, loro, gli ultimi minuti hanno creato anche delle occasioni, ma quello che conta è che nell'ultimo episodio, quello del 91esimo, c'è stato questo colpo di testa, ancora non l'abbiamo rivisto bene, sembra che ci sia stato questo colpo di Vitiello nei confronti di Terrani, con la palla però già l'avesse colpito. Insomma, un episodio che ricorda un po' quello col Trapani, no? Io sono un po' imbarazzato perché non l'ho rivisto bene. Lo giudichiamo meglio in trasmissione, no? Che calcio vuoi con la mente, diciamo, fredda, no? L'ho rivisto in modo fugace. Devo dire che dare quel rigore al 91esimo, insomma, dice Breda che è stato, l'arbitro ha dimostrato personalità, vabbè, diciamo che forse il pareggio gli andava bene. Però è stato sicuro l'arbitro su tutti e due i rigori, no? Non ha dubitato. No, dico, se dai rigore lo dai, perché fra l'altro non c'è la barre, non è che puoi dire aspettate un attimo che ci penso. Ha dato rigore, i giocatori dell'Aternana erano imbufaliti, i giocatori del Perugia stessi non mi sembrano tanto convinti che fosse netto sto calcio di rigore. E insomma, ce l'abbiamo in zaccoccia anche quest'anno, adesso tanto per dire. Anche se, forse, forse, diciamo, dopo un primo tempo nel quale c'era solo una squadra in campo, nella ripresa, non dico che il Perugia abbia legittimato il pareggio perché non ha giocato come l'Aternana nel primo, però negli ultimi venti minuti ci ha messo un po' sotto. Ecco, forse lì ci abbiamo avuto, tra l'altro, una prudenza che l'Aternana quest'anno non ha avuto quasi mai. Non capisco perché ci siamo messi a difendere sto 1-0 che, tra l'altro, forse non genera neanche bisogno perché, in effetti, oggi il Perugia non era la sua giornata migliore. Ecco, diciamo questo. Comunque, la delusione e l'amarezza tanto per... Sono gigantesche. Insomma, potevamo vincere questo derby dopo dieci anni, insomma, dall'ultima volta che l'abbiamo vinto qui sempre al Libero Liberati con la rete al 92esimo, in quel caso di Zamperini. Non c'erano i tifosi né del Perugia né della Ternana in quell'occasione. Quest'anno però c'è stato un grande tifo rosso-verde. Non c'erano quelli del Perugia perché hanno deciso di non esserci. Però, comunque, il Liberati per l'ennesima volta ha dimostrato che quando c'è il derby i Ternani vengono in massa a vedere la propria squadra del cuore. Direi grande pubblico. I tifosi del Perugia non possiamo parlare perché non sappiamo che è successo. Peccato perché la giornata poteva finire nel migliore dei modi. Ecco, diciamo così. Da che cosa ripartire per la prossima trasferta e quella di Pescara? È una vittoria che dobbiamo assolutamente ottenere. Non sarà facile a Pescara. Però, insomma, guarda, ti dico oggi non riesco a pensare al futuro. Grazie a Gigi Manini. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Secondo intervento di Gigi Manini, sempre per commentare il derby Ternana a Perugia. Gigi, ti volevi soffermare sull'arbitro, no? Sì, abbiamo rivisto meglio le immagini. Devo dire che il fallo ci può essere, ma la palla era stata già... Era lontana? Sì, io direi che parata da Prizzi. Ok, era già parata dal portiere rosso-verde, quindi... È un episodio, quindi... Non chiara occasione da gol, diciamo. No, ma a parte chiara occasione da gol, ma è un rigore che, insomma, darlo al 91esimo in un derby, sull'1-0, insomma, come dice Breda, lo ribadisco, grande personalità dell'arbitro per non dire che alla fine ha fatto pari e patta, cioè un rigore per uno, insomma, adesso che l'ho rivisto ti posso dire che sono ancora più arrabbiato. Diciamo così, dai, cerco di usare un giro di parole, ma, insomma, io direi, come dicevo prima, ce la siamo presa in zaccoccia, per non dire in un altro posto, anche quest'anno, che comincia a diventare un po' pesante, perché ci ricordiamo i rigori di Ardemagni. Breda dice che non parla degli episodi, però, insomma, l'altra volta ne parlò, stavolta non ne parla, vabbè, ognuno fa il suo lavoro, però... Perché stavolta è stata all'altra parte la barrigana. Io quello volevo dire, volevo dire quello, però vabbè, insomma, lasciamo stare, che al di là del derby, che è fondamentale per mille cose, è fondamentale anche per la classifica, questi tre punti, capito, perché, sai, ti metti a 18, adesso andare a vincere a Pescara, o in casa col padre, carità, Pescara può perdere con chiunque, visto il suo allenatore, però, insomma, l'amarezza aumenta. Ti garantisco che ho paura che aumenterà ancora di più, una volta che lo rivedremo meglio, magari ne parliamo meglio lunedì, come dicevi prima, però prima mi sono lasciato un po' il beneficio del dubbio. Io dico che un rigore del genere a noi non ce l'hanno dato mai. Ecco, questo è il discorso. Un pensiero per Marcello Pardi, un abbraccio che è stato bersagliato da telefonate vigliacche, fatte alla figliola, mi non piace parlare ai tifosi del Perugia, sono affari loro perché non sono venuti, ma il fatto che abbiano bersagliato un ragazzo che non sta molto bene è una cosa vergognosa, quindi un abbraccio, un abbraccio anche a Giovanni Vicario, un abbraccio ideale, perché per questa brutta cosa che gli è capitata, insomma, tutti siano del fratello. Un abbraccio quindi a Giovanni Vicario che è stato anche dirigente della Ternana. Ci allacciamo anche noi agli abbracci di Gigi Manini in favore di Marcello Pardi e di Vicario per la scomparsa del fratello.